Sono 25 i dipendenti di Banca Etruria con incarichi a vario livello per i quali verranno fissate a giorni le date di udienza. Il filone dell'inchiesta è quello legato al capitolo di truffa per il quale sono arrivati in procura d'Arezzo circa 500 denunce. In questo caso la procedura non prevede il passaggio attraverso l'udienza preliminare ma il decreto di citazione a giudizio. Le indagini non sono ancora chiuse perché prosegue l'ascolto da parte del pool dei magistrati e retini coordinati dal procuratore della Repubblica Roberto Rossi dei risparmiatori azzerati dal decreto salvabanche dentro febbraio data in cui il filone dovrebbe veder chiusa la fase iniziale il numero dei dipendenti ed ex direttori di filiale che finiranno a processo potrebbe raddoppiare. Intanto per quanto concerne il filone che riguarda la banca rotta i legali delle 22 persone che hanno ricevuto l'avviso di chiusura indagine hanno tempo 20 giorni a partire da venerdì scorso per presentare integrazioni probatorie o richieste di ascolto.